Mi chiamo Giacomo Troiano, sono responsabile dell'esercizio IT di Nuovo Trasporto Viaggiatori, l'azienda del treno Italo. Qui in SMAU siamo stati premiati come vincitori del premio Architettura ICT. L'architettura ICT che abbiamo disegnato e realizzato in MTV per Italo è una start-up che parte da uno scenario greenfield sui sistemi e concilia ed integra diversi framework da soluzioni in cloud, quali ad esempio il sistema di vendita e il sistema di messaggistica ai clienti e soluzioni on-premise su una piattaforma in hosting che abbiamo presso un data center e su cui invece risiedono i nostri sistemi di back office. Motivazione della premiazione è stata quindi la eterogenità della soluzione e l'efficacia dell'integrazione tra queste diverse soluzioni e il tempo con cui è stata realizzata da zero tutta questa soluzione. Il progetto informatico è infatti iniziato nel 2009 e si è concluso nel 2011, quindi poco più di due anni per lo start-up dei sistemi. Attualmente sono in corso ulteriori evoluzioni sui sistemi, sempre basati sui paradigmi che accennavo prima, ovvero il cloud, soluzioni on-premise e lato applicativo sui framework SOA servizi distribuiti.